E tornò a Nazareth, il luogo dove era cresciuto. E il sabato, come al solito, entrò nella sinagoga. E fu invitato a leggere un brano del profeta Isaia. E fu invitato a leggere un brano del profeta Isaia. Perciò mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per annunziare liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi. A liberare gli oppressi. E a dire che è giunto il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo. Parla proprio bene. Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia. La scrittura si è avverata. Ma solo il Messia può adempiere quella promessa. Non è il figlio di Giuseppe. Senz'altro voi mi citerete il proverbio Medico cura te stesso. E mi direte Fa anche qui nel tuo villaggio Quello che si dice hai fatto a Cafarnau. Ma io vi dico Nessun profeta ha fortuna in patria. Dicendo così Gesù si dichiarava il Messia L'unto di Dio Mandato per salvare il suo popolo Ma questi giudei Non l'accettarono come Messia Volevano gettarlo nel burrone Ma Gesù passò in mezzo a loro E se ne andò E scese a Cafarnau Città della Galilea L'occupazione del paese Da parte dei Romani Era evidente ovunque E tutti aspettavano il Messia Che li liberasse Dalla tirannia